Tra le ville di Torno, Villa Taverna è certamente quella di maggiore spicco, tanto per l'armonia dell'architettura quanto per la felice posizione. Fu inizialmente proprietà dei Tanzi, che vi ospitarono frequentemente il Parini, allora membro dell'Accademia dei Trasformati. Successivamente passò ai Taverna, che la vollero per i fastosi ricevimenti in onore di illustri ospiti. Grazie